Eccoci tornati in diretta qui a pomeriggio con noi su Cusano Italia TV abbiamo allora Ilaria Marocco benvenuta innanzitutto bentornata bentornata ora si vede la che c'è eccola qua ma è lei o non è lei perché la vediamo con un colorito differente e lo sapevo che me l'avresti detto ma sei tu che però hai messo il dito nella piaga sì perché quando abbiamo fatto le cose su di me tu spesso e volete hai detto no perché sai l'abbronzatura cambia l'abbronzatura va a camuffare ed eccomi qua piena di abbronzatura camuffa camuffa con l'abbronzatura siamo tutti un po' più belli no però c'è hai preso un sacco di sole ma questo è il potere dell'autunno essendo io una donna calda e profonda al primo raggio di sole divento così anzi questo è niente ma è niente veramente ma stai scherzando io divento di colori imbarazzanti no vabbè ma guarda col primo piano si vede ma guarda la differenza guarda la differenza che c'è e non sono nemmeno truccato oggi purtroppo saluto Tania la mia amica artist ciao Tania mi manchi si vede poi soprattutto quando arriva l'aria così che è truccata perfettamente che non è truccata perfettamente ed è abbronzatissima invece tutto sbattuto insomma ma no va bene la natura va bene no dicevo conosci questa trasmissione tu quindi sai come bene saluta la penna quindi sai come come approcciamo noi abbiamo deciso 8 dicembre gli italiani sono già tanto stressati angosciati preoccupati per vari motivi oggi 8 dicembre vogliamo dare un po' di leggerezza infatti ringrazio simone will perché abbiamo abbiamo giocato per questa mezz'oretta sentivo anche dietro le telecamere gridevano quindi ci siamo divertiti speriamo di avervi fatto divertire anche voi a casa allora luca negli outfit anche pazzeschi ho visto visto cristian pandori come era vestito bene ma dopo d'agostino ieri alla scala diciamo che possiamo anche non dirci più niente è vero perché ieri c'è stata la prima del teatro alla scala ci sono stati tipo oltre quattro minuti mi sembra di applausi per il capo dello stato 13 minuti infatti per una cosa pazzesca ha colpito tantissimo il look di giorgia meloni tantissimo è piaciuto anche a me con le spalle scoperte aveva però era aveva delle bretta aveva sì sì aveva questo incrocio sul sul decollet e poi aveva questo mantello in velluto blu l'ho trovata estremamente bella estremamente elegante estremamente in linea a quella che è anche il messaggio che le vuole comuni ecco esatto visto che tu hai scritto il libro vado anche io sono andato lì perché il potere comunicativo dell'abbigliamento è scritto per mondadori per mondadori la prefazione di roberto renzo un libro meraviglioso che abbiamo avuto modo di leggere di parlare ma ogni volta poi ne parliamo perché vai a mettere a confronto anche personaggi politici appunto che immagine ha comunicato ieri sera giorgia meloni alla scala vestita in quel modo anzitutto ha dato importanza all'evento perché l'abito che portava era possono dire i brand no ma era un armani il re giorgio insomma era un armani in velluto blu quindi tutto ciò che ci richiama la nobiltà l'ha messo indosso ma comunque se tu ci hai fatto caso è rimasto estremamente semplice alla scala c'è un dress code che naturalmente va rispettato ovviamente lo scuro no bisogna vestirsi scuri ma no non necessariamente i colori devono essere sicuramente sobri ma si può andare anche verso i colori più pastello però l'abito lungo e di rigore i tessuti devono essere preziosi quindi il velluto il raso un po di pizzo anche sì e i gioielli alla scala si possono indossare questi gioielli chi più ne ha e più ne devi mettere ma hai fatto caso che giorgia meloni infatti sai ho visto le foto questa mattina non aveva nessuna collana mi aspettavo una collana invece no diciamo che lo scollo era importante quindi comunque già era il protagonista però lei è rimasta comunque molto sobri e semplice che è un po il mood con il capello legato raccolto quello è proprio richiesto da dress code sì io poi sono un amante del dress code mi piace tantissimo però lei aveva pochi gioielli proprio coerente a quello che è il mood lei ci tiene sempre a sottolineare che ha delle origini molto umili sì e infatti lei è sempre vestita in maniera molto semplice e lineare non non esagera mai e anche alla scala dove comunque si poteva fare non l'ha fatto è la sua forza promossissima è la sua forza sì assolutamente assolutamente allora look del natale ok quindi come vestirsi per il cenone per il pranzo del 25 ma attenzione anche perché il 26 a santo stefano va fuori perché ci sono magari le coppie di fidanzati che stanno con le varie famiglie poi il 26 uno dei due va dall'altra e viceversa come essere poi perfetti perfetti che brutta parola che brutta parola perfetto rispetto a cosa e ti dico proprio l'altro giorno una persona che seguo con quello che è il mio lavoro mi ha chiamato mi ha detto Ilaria ma che cosa metto il 25 perché vado a cena a conoscere i miei suoceri il 25 sì allora anzitutto quando uno sceglie poi durante una festa questa persona salutiamo un grande abbraccio siamo vicini siamo molto anzitutto quando decidi che outfit vuoi indossare ci sono due strade no che puoi percorrere o quello di essere notato e quindi attirare l'attenzione su di te oppure essere simile ai commensali ok però non conoscendoli non lo sai e beh allora però viviamo anche in un mondo in cui io scrivo il nome di una persona su google mi esce anche no quante volte mangia al giorno quindi insomma è facile capire è facile reperire informazioni quindi in realtà è che obiettivo abbiamo con il nostro outfit vogliamo attirare l'attenzione e quindi lì si può andare su colori sgargianti un outfit più carico anche più chiassoso eccitando d'agostino voluto fare proprio questo ecco esatto oppure essere più simili a quelli che saranno i commensali ok ok come si fa a essere simili ai commensali non voglio dire scimmiottando l'abbigliamento perché sarebbe veramente brutto perché comunque uno deve rimanere sempre nel proprio stile nella propria personalità però magari inserendo in quello che è il proprio abbigliamento dei tocchi che richiamano e che sono familiari alla persona che poi mi guarderà ok noi ci fidiamo in maniera più immediata di chi ci assomiglia e quindi è ovvio che se io sono simile a te mi fido di te non sono un pericolo soprattutto per le suocere non sono un pericolo e quindi vengo accolto anche con un ma con maggiore facilità rispetto che a essere completamente diverso c'è chi invece sceglie poi invece la stravaganza e quindi l'attirare l'attenzione e questo anche può funzionare dipende sempre dall'obiettivo che uno ha con l'abbigliamento è vero è vero è vero è così e bisogna stare molto attenti anche alle fantasie immagino certo allora anzitutto il natale in particolar modo accoglie tanti tipi di persone c'è il tutarolo colui che indossa la tuta perché magari sta in giacca e cravatta come te tutto l'anno dice a natale guarda sto a casa metto una bella tuta e va io lo faccio il weekend sai però adesso io non riesco più a mettere la tuta perché perché non ci riesco più è una cosa che io amo il tutone così riesco più ho trovato la soluzione un pantalone simile elegante però morbido e quindi fa fare il sostituto però settimana scorsa scusami se te lo dico o e se ti interrompo ho voluto mettere il classico stivaletto che che hanno tutti molto elegante da uomo famosissimo ecco quel pantalone morbido beh no ha fatto un po l'effetto zampognaro immagino però sei in linea con il periodo lo zampognaro il natale capito proprio in linea col periodo vestito malissimo tra l'altro mi sto rendendo conto di essere uscito adesso che continui a pensarci no rimugio avevo un pantalone grigio questo morbido così questi stivaletti che sono di un grigio tendente alla blu quasi e un maglioncino con l'altro bianco grigio e bianco ok sta bene le scarpe però no ma andava bene anche una sneakers dovevo mettere una sneaker bianca esatto mantenevi un dress code più e invece invece no ma perché pioveva e ho detto no ma perché la settimana scorsa non c'ero e quindi ovviamente il mio influsso ma vogliamo raccontare dove sei stata la settimana scorsa sono andata con le mie due assistenti e l'altra parte della divisione della mia azienda a charme shake perché è giusto il viaggio aziendale esatto il viaggio aziendale è una cosa che fa bene cioè bisogna farlo perché crea gruppo crea armonia si torna e si lavora meglio di prima perché si torna e si innamora perché si stacca si è una roba pazzesca mi sta facendo venire una voglia ma non di prendere un aereo e viaggiare di uscire da qui e prenotare la prima lampada possibile voglio farmi 50 lampade perché guardate la differenza tra me ripeto struccato stanco e tutto quanto e l'aria marocco tornata meravigliosa abbronzatissima ma usi qualcosa per questa abbronzatura? no anzi metto la protezione perché a prescindere dal colorito che uno abbia è bene comunque proteggere sempre la pelle assolutamente sì anche perché devi sapere e questo lo sanno molto bene le persone che hanno un incarnato caldo come il mio noi siamo soggetti a macchie quindi prendiamo il sole sì però ci macchiamo quindi la protezione è sempre importante è vero è vero è vero è vero ed è una cosa bella però l'abbronzatura funziona camufferà ma funziona funziona sì funziona sì assolutamente comunque ci ricorda le persone che un tempo soprattutto avevano grandi possibilità di viaggiare e quindi richiama il benessere economico ecco perché piace tanto veramente eh sì questo naturalmente da noi in Cina ad esempio è tutto il contrario c'hai mai fatto caso che i cinesi vanno in giro con l'ombrellino? anche con il sole cinesi vanno in giro con l'ombrellino perché loro detestano per non abbronzarsi perché l'abbronzatura da loro è legata più all'ambito rurale quindi chi coltiva la terra e quindi socialmente riconosciuto come un livello più basso a livello economico e quindi non si vogliono abbronzare è vero è vero e invece non sai che possiamo fare un giochino adesso insieme a te parliamo del Natale ancora un po' mi hai portato qualcosa quindi adesso vediamo poi ti faccio vedere il nostro Thomas Cardinali che è andato alla prima di una serie televisiva di Amazon che si chiama The Bad Guy che uscirà tutto un cast italiano però a livello internazionale sarà questa serie e vediamo i protagonisti come sono vestiti le mettiamo con immagini di copertura quindi commentiamo sopra ti piace? c'è anche Cristina, Claudia Pandolfi poi l'ascolteremo anche c'è anche Claudia Pandolfi partiremo proprio dalla Pandolfi quindi regia se potete prepararmi il video della Pandolfi nei video quelli speciali di Thomas Cardinali insomma sai si è rotto il l'aggeggio che fa comunicare me nella regia quindi dobbiamo comunicare così ma va bene lo stesso non è sempre comunicazione quello è un principe di Galles esatto esatto c'è il tartan, il principe di Galles, il velluto, il rosso, l'oro, l'argento sono tutti i colori legati al Natale quindi sicuramente la donna e l'uomo classico amano questo tipo di abbinamenti ricordiamoci che la palette è importante quindi esistono comunque stampe e colori per ogni palette se ho imparato qualcosa da te vuol dire che la mia allora posso avvicinarmi? certo che puoi, allora tra questo allora devo sistemare però per avvicinarmi all'aria marocco allora che detesto quando mi rimane? aspetta eh questo è un verde questo è un verde però è un verde freddo mixato con il blu quindi in realtà potrebbe andare bene anche a te questo grigio sì, questo blu sì, questo e qui ho sempre un verde pino con un melanzana quindi siamo nel freddo questo sì, questo sì sicuramente qua no, qua siamo fuori qua non ci siamo qui non ci siamo, non ci siamo anche questo potrebbe andare diciamo che solitamente questo sarebbe stupendo questo è perfetto per me molto bello, molto bello per te anche se tu potresti usare anche dei contrasti più alti sto cercando un tartan più caldo ecco dai, questo sul marrone diciamo questo è meraviglioso, questo è meraviglioso ma lo dimentichiamo nel senso possiamo mettere un bel pantalone per te di questo tipo e su una giacca blu ecco perché ricordiamo che tutto questo è un ragionamento ovviamente se una cosa piace poi uno lo stile batte qualsiasi paletta armocromatica esatto e se lo dice proprio una consulente d'immagine siamo a posto però c'è da dire che tutte queste cose qui servono per valorizzare il viso la parte alta quindi possiamo giocare possiamo indossarle, non dobbiamo prendere quegli indumenti di quei colori che abbiamo nell'armadio e gettarli assolutamente no quindi un armadio anche più sostenibile cari miei in modo molto semplice pantaloni accessori anche se vogliamo basta che non si avvicinano al volto esatto, più sono vicini al volto più il colore ha effetto e quindi bisogna farci un po' più d'attenzione un po' che parliamo anche di capigliature abbiamo un hair stylist il mio il tuo è il mio è il mio è il mio è il mio sono contentissimo perché generalmente sono io che vado a casa sua oggi e lui che viene a casa mia sono anche un po' emozionale lui mi fa trovare sempre tutto preciso, pulito quindi spero di fare una buona impressione ma certo che fa una buona impressione benissimo e questo è una cosa che è molto invernale ovviamente beh assolutamente d'altronde le feste natalizie sono in inverno e quindi ci sta quindi velluto, tartan, rosso rosso è legato molto questo dal principio no? al sangue quindi ha un po' il tema della vita sì e quindi è il colore del Natale anche perché ci ricorda in realtà anche il vescovo, l'ex vescovo di Bari San Nicola San Nicola a cui si ispira poi Babbo Natale vestito di rosso ma tu lo sai che il primo vestito di Babbo Natale non era rosso? di che colore era? ah 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 e qua casca l'asino non lo so bianco? verde verde Babbo Natale nasce con il vestito verde poi subentra chi? la Coca-Cola la Coca-Cola sì l'ho detto e quindi diventa un qualcosa di marketing e diventa rosso esatto pazzesco quanto il marketing a volte influisce addirittura sulla moda no? e lì ovviamente abbiamo la palette classica dell'Accademia che possiamo vedere esattamente quindi anche rosso si fa facile a dire rosso ci sono rosso quale rosso? quale rosso? adesso Pantone ha tirato fuori il nuovo colore 2023 che è il Viva Magenta che è una tipologia di rosso con una buona percentuale di blu e un rosso freddo quindi per te stupendo meraviglioso va benissimo quello rosso mi ingrassa tantissimo ti rilassa? mi ingrassa ti ingrassa? sì vedrei che con il Viva Magenta invece riesci perché essendo un colore profondo riesci non è un rosso aggressivo brillante è un rosso più attenuato potrebbe essere un buon colore va bene senti vogliamo fare un pochino i pettegoli? facciamo i pettegoli ok andiamo a vedere un pochino Claudia Pandolfi ma poi ascoltiamo anche le sue parole però andiamo a giudicare il suo outfit intervistato dal nostro Thomas Cardinali durante la prima di The Bad Guy una nuova serie che partirà su Prime Video adesso la vediamo vestita di scuro ovviamente ora se la possiamo vedere a schermo intero riusciamo a giudicarla eccola qua è totalmente oddio è nero questo questo è nero sembra nero si capisce se è un nero o un blu sembra un blu fermi qua fermi immagini se è possibile indietro se si può andare un pochino indietro per vedere il bracciale quando alza il braccio eccolo qui vedete ha il bracciale come ecco è perfetto fermi immagini è meraviglioso è bracciale e e collana uguale ovviamente la trovo molto la trovo molto elegante è scichissima la trovo molto elegante questa giacca pure messa così sulle spalle è la moda del momento ma che ti richiama quella giacca appoggiata così sulle spalle? che mi richiama? che cosa ti richiama alla mente? a me da un ti posso dire il senso si dammi il senso da un senso di professionalità di ordine quasi istituzionale di regalità di regalità perché? perché assomiglia al mantello delle regine e dei re ti so per dire subito mantello ma poi ho paura di sbagliare no no è proprio così è così è così e quindi ti dà quel senso di nobiltà meraviglioso meraviglioso ne abbiamo anche altri di video di altri artisti possiamo possiamo vedere decidete voi regia va bene un qualsiasi un qualsiasi artista poi noi lo riconosciamo e ovviamente lo possiamo giudicare possiamo dire che la Pandolfi anche come capigliatura niente da dire beh molto semplice con questi sciopi che lei ha compito lei è una giovane attrice sì lei è una giovane attrice che farà parte appunto del cast di This Bad Guy vediamo poco ovviamente sì devo dire che la scollatura però è importante eh sì sembra una scollatura quasi a cuore se non immagino dietro al no 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 è una scollatura asimmetrica quasi monospalla non ha beh diciamo che si poteva far di meglio Giulia ovviamente la vediamo anche la capigliatura è messa bene insomma alla prima adesso vedi questa è una prima di una presentazione di una serie tv ovviamente si bada molto anche allo stile cosa totalmente diversa dalla scala la scala ha quel senso ancora di di Dreskod perché Dreskod e stile sembrano la stessa cosa ma non sono ma non sono la stessa cosa Dreskod è una serie di regole scritte non riguardante il modo di adeguarsi di abbigliarsi in maniera adeguata rispetto a dove sei no? sì mentre lo stile è un qualcosa di personale il tuo modo di comunicare chi sei attraverso l'abbigliamento assolutamente Giulia Maenza qui è vestita devo dire in maniera molto non te la so definire sicuramente fresco è giovane come tipo di abbigliamento anche lei ha scelto il blu che comunque è un colore anche questo molto autorevole molto nobile quindi indicato sicuramente per una prima ti faccio vedere anche il nostro Luca Bussoletti che è lo speaker di Radio Cusano Campus anche prima di Luigi Berlinguer c'è l'intervista sotto che è partita di Thomas Cardinali vediamolo solamente Luca Bussoletti eccolo qui è un artista è un cantante rossa fantastica ha curato tutta la colonna sonora del documentario Una vita di Bollina su Luigi Berlinguer c'è stata la prima la presentazione dove purtroppo lavoravo e non sono riuscito a presenziare lui è Luigi Berlinguer devo dire vestito in maniera impeccabile impeccabile torniamo a Bussoletti perché su Bussoletti qualcosa devi dire forse l'aria marocco ce l'ha eccolo qua ma sicuramente attira l'attenzione quando ti parlavo di outfit carico questo sicuramente è carico fai caso al nodo della cravatta? è una cosa che si vede molto perché è in forte contrasto con la camicia rossa che c'è sotto e quindi è ovvio che che si vede molto è sistema anche questa giacca può può si sembra quasi diciamo che non c'entra nulla nessun colore ha un collegamento con l'altro è un outfit carico che sicuramente voleva voleva far parlare quantomeno attirare l'attenzione ma nel mondo d'altronde dei creativi è questo il bello è questo è questo un giorno prenderemo magari settimana prossima sai cosa sono fissato con queste cose le foto dei calciatori io prendo le foto dei calciatori le mostriamo e vediamo cerchiamo di capire se la mia teoria è giusta i calciatori non si sanno vestire tu sai di questa filosofia non si sanno vestire i calciatori perché vanno in giro vestiti tutti marchiati ovviamente dalla testa ai piedi con cose anche molto volgari pacchiane va bene dai parliamo dei calciatori ma anche lo stesso Cristiano Ronaldo secondo me non si sa vestire Cristiano Ronaldo fa parte anche di uno stile particolare magari la prossima volta ne parleremo nel libro è fatto riferimento a qualche calciatore no non mi pare che calciatore non credo no non credo ne parlo parlo di qualcuno durante i corsi dell'accademia quando parliamo di stile tra cui appunto Cristiano Ronaldo sicuramente emblematico di uno stile molto sensuale ma fatto di piccole particolarità interessanti ma non ti sveglia tipo gli orologi ma no no anche proprio il modo di vestirsi di acconciarsi si 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 pazzesco ne parliamo la prossima settimana e parleremo anche di quanto è importante il volto ovviamente i capelli il taglio di capelli il taglio giusto perché diciamoci la verità ogni volta che andiamo dal parrucchiere dal barbiere siamo lì ci rilassiamo ci stendiamo rilassiamo se ci mettono la musica la chiacchiera giusta ci vizziano ci coccolano noi ci lasciamo andare anche ad un flusso di coscienza che è la stessa cosa che avviene con i tuoi clienti e con te immagino è proprio vero proprio perché nel momento in cui si abbassano un po' le difese del tran tran quotidiano uno si apre anche in maniera molto personale quindi quanti segreti potete raccontare voi eh pazzesco però non lo potete fare perché avete un giuramento non lo potete fare ma ci mancherebbe grazie Ilaria grazie a te grazie mille grazie a te ci vediamo la settimana prossima sì e parleremo appunto di questi look dei VIP calciatori possiamo aprire una rubrica look dei VIP poi ogni volta vedremo attori cantanti iniziamo con la mia passione con i calciatori lo facciamo va bene grazie Ilaria Marocco grazie a te grazie mille ci fermiamo qualche istante di pubblicità devo bere un po' d'acqua e poi torniamo con Andrea Amoriello mi raccomando fermi lì a tra poco grazie a te